ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere due telemetri laser che si utilizzano guardando attraverso questo oculare sono due dispositivi che servono a prendere una misurazione dal punto cui ci troviamo noi fino ad una superficie nella quale andremo a puntare e si utilizzano appunto guardando attraverso perché vedremo un reticolo con riportata la misurazione me li manda go 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 sport che in realtà li produce pensando ad un utilizzo sportivo ma trovano un impiego molto vasto in diverse situazioni io l'utilizzo è un ambito sempre sportivo per esempio al poligono per vedere la distanza delle sagome ma si possono utilizzare in tantissime circostanze anche in cantiere ad esempio per prendere una misurazione per mettere una recensione insomma e ora voglio farvi vedere tutto il loro funzionamento le caratteristiche per far vedere qualche ripresa attraverso l'oculare cosa che devo dire effettivamente il risultato è un pochettino difficile riuscire ad inquadrare l'interno ma comunque qualcosina sono riuscito a fare questi si utilizzano per prendere misurazioni approssimative però hanno diverse funzioni ad esempio ci permettono pure di leggere le angolazioni e possono essere utilizzati come rilevatori di velocità infatti somigliano a quelli che utilizza la pulizia a prendere la velocità dei veicoli che hanno un'ottima qualità soprattutto sono molto precisi quindi facciamo un fin d'unboxing dato che già sono fuori dalla confezione e vediamo come funzionano iniziamo queste sono la confezione con cui vengono vendute due scatole in cartone all'interno troveremo i prodotti che a loro volta sono all'interno di queste custodie particolari adesso ve le farò vedere ovviamente all'interno della confezione troveremo anche il manuale di istruzioni il laccetto per poterla assicurare al polso e poi una pezzuola per poter pulire le lenti allora partiamo da questo bianco quello che vi dirò si riferisce anche a quello nero però questo bianco mi piace di più questo contrasto con il nero insomma è quello che preferisco anche se ha le stesse caratteristiche le stesse funzioni stessa precisione stessa reattività dell'altro da questa parte abbiamo un anellino per poter mettere l'aceto nella parte bassa abbiamo semplicemente una parte tondeggiante avrei preferito che fosse stata piatta per poterlo appoggiare su una superficie guardiamo innanzitutto ovviamente i comandi abbiamo il tastino per accenderlo il tastino mobile serve a variare le varie funzioni tra lettura della distanza una funzione specifica per il golf e poi la lettura della velocità per poter attivare invece la funzione di lettura delle angolazioni bisogna fare scorrere questo tastino nella parte frontale protetta anche da queste sporgenze abbiamo le due lenti una serve per il sensore che leggerà le distanze l'altro invece serve per poter vedere attraverso da quest'altra parte invece abbiamo questa parte nera che è leggermente gommata e che ha un magnete un forte magnete che gli permette di rimanere quindi sulle superfici metalliche perché possiamo utilizzarlo per esempio su un paletto una volta fissata possiamo posizionarla in determinati punti e segnare sul pavimento le varie distanze che rileviamo questo di colore nero che ha praticamente le stesse caratteristiche cambia leggermente il design ma fra le cose che cambiano c'è anche la parte bassa che piatta che quindi gli permette di rimanere anche in equilibrio sulle superfici quindi possiamo lasciarlo in questa posizione leggere una misurazione poi eventualmente spostarlo però il laccetto posizionato qua non gli permette di rimanere in equilibrio quindi eventualmente dovete rimuoverlo anche questo a questa parte magnetica ragazzi il magneto è davvero molto forte quindi a un'ottima tenuta è una volta quindi fissato su una superficie metallica possiamo stare sicuri che rimarrà dove l'abbiamo messo per quanto riguarda la parte frontale non ha queste due sporgenze come vedete prendendolo può capitare di toccare la lente questa l'ho lasciata appositamente sporca perché può succedere che si sporchino fate attenzione con questa è un po meno probabile ora però passiamo direttamente alla descrizione delle caratteristiche tecniche allora in base al modello potete scegliere quale distanza massima potere leggere perché partono da tre metri ma queste per esempio si fermano a 650 yard quindi super giù mi pare corrisponde a 500 metri ma ci sono anche del range superiori insomma in base alle vostre esigenze dai link poi potrete scegliere quale più adatta al vostro scopo entrambi funzionano a batterie e per fortuna la batteria non è integrata quindi basta aprire questo sportellino ed eventualmente se dovessero essere scariche possiamo sostituirle e continuare ad utilizzarle invece quelle che hanno le batterie integrate se la batteria scarica dimentichiamo di ricaricarla ahimè non possiamo utilizzarle da questa parte invece abbiamo un altro tipo di batteria una cr2 da tre volte 900 mAh e per entrambi i modelli ruotando questa ghiera abbiamo la possibilità di regolare la messa a fuoco e allora con non poche difficoltà sono riuscito a mettere il dispositivo davanti all'obiettivo quindi l'accendo vedrete compatire come in questo caso la scritta distanza poi dei trattini che indicano metri e questo croce al centro che indica il punto centrale nel quale andrà effettuare la misurazione quindi se ci sono degli ostacoli possiamo puntare esattamente nel punto che vogliamo misurare evitando di colpirne altri ma se io premo mod va su m2 questa è una funzione specifica per il golf che però non ho approfondito e premendo nuovamente ci dà la possibilità invece di andare a vedere la velocità allora ragazzi andando sulla funzione golf se io faccio scorrere il tastino per rilevare gli angoli compare aiuto o che compaiono queste icone che scompaiono quando io disattivo quindi faccio spostare il tastino in posizione di off come vedete anche se non è semplicissimo comunque si intravede va ve la tolgo perché altrimenti impazziamo comunque spostando questo tastino si accende il led di colore rosso e compaiono le icone sul sul display all'interno la stessa cosa per quanto riguarda quest'altro modello che si accende sempre tramite questo tastino facendo scorrere si attiverà e si disattiverà nel senso opposto pure questo la funzione modio ora però guardiamo direttamente le riprese fatte in esterno perché ho fatto delle riprese sia di giorno che di sera per farvi vedere che effettivamente a questo dispositivo ci dà la possibilità a differenza di quest'altro tipo di dispositivi di utilizzarli anche con il sole perché con questi dispositivi che hanno il puntino laser è difficile vedere con la luce dove vanno a puntare invece con questi riusciamo a guardare attraverso quindi abbiamo il pallino e possiamo puntarlo esattamente ad esempio su un palo oppure su una parete anche se abbiamo altri ostacoli ed essere sicuri che andremo a puntare esattamente dove si incrociano le linee dove c'è il pallino centrale al centro per quanto riguarda l'utilizzo di urno tra l'altro questi possiamo utilizzarli anche con il sole alla massima luminosità oppure di sera a buio pesto la difficoltà di sera ovviamente poi sta nel riuscire a vedere perché essendoci buio se c'è troppo buio non riusciamo a vedere assolutamente dove inquadriamo misurazioni che sono sempre arrotondate per esempio vedrete nelle misurazioni eseguite di sera che mi indica 18 metri e 20 18 metri e 10 e si arrotonda per eccesso oppure per difetto se ad esempio superiamo 18 metri e 15 risora 18 metri e 20 perché questi dispositivi si utilizzano per misurazioni approssimative in ambito sportivo 5 cm non vanno ad influire così come potrebbe essere per il tiro con il tiro sportivo con le armi e lo stesso per quanto riguarda discipline sportive che richiedono il raggiungimento di un traguardo oppure come ho detto all'inizio anche in edilizia nel caso in cui si debba mettere una recensione o qualcosa di simile 5 cm non vanno ad influire sicuramente se vi serve invece una misurazione molto precisa allora non avete alternativa dovete utilizzare assolutamente questo tipo di dispositivi laser che vi indicano anche i millimetri questi arrotondano e partono da tre metri per arrivare alla misurazione massima indicata in base alle caratteristiche tecniche che sceglierete guardiamo anche questa sorta di custodia questa fondina chiamiamola così da questa parte abbiamo questo spazio nel quale possiamo fare scorrere la cintura quindi tenerla al bianco possiamo aprirla semplicemente spostando questo elastico e quindi riporre ed estrarre il misuratore laser e possiamo anche chiuderlo tramite questa gianiera tra l'altro sono delle borsette rigide fatte bene l'unica cosa che effettivamente mi manca è la presenza di un eventuale foro filettato da un quarto di pollice per poterla posizionare su un cavalletto per quanto riguarda la qualità costruttiva le plastiche nella sensazione al tatto e anche la precisione che ho riscontrato confrontandola con più di un misuratore laser considerate questo professionale e hanno sempre rispettato la misurazione quindi ritengo che siano affidabili queste in particolare sono belli da vedere ma se andate a dare un'occhiata sul sito troverete tantissimi modelli con tantissime colorazioni anche verde militare si possono utilizzare anche a caccia ma si possono utilizzare anche in altri ambiti per esempio nell'utilizzo con i droni per vedere la distanza che vogliamo raggiungere da un oggetto che vogliamo inquadrare sapete che con i droni si devono rispettare determinate regole allora inquadriamo ci mettiamo la distanza corretta per uno sforare impostiamo la stessa distanza e sappiamo che stiamo volando in sicurezza e che non andremo mai oltre la distanza che ci necessita quindi come dicevo gli ambiti e i campi di utilizzo sono davvero infiniti ho fatto diverse prove per verificare che questi due misuratori laser fossero affidabili li ho fatto ovviamente tantissime a telecamere spente per potervene parlare bene ma ovviamente ho fatto anche qualche ripresa in modo da dimostrarvi come si comportano quindi nelle riprese in esterno vedrete la misurazione con misurazioni di palazzi insegna alcuni cartelloni pubblicitari insomma per vedere il comportamento per vedere ciò che appare sul display ma ho voluto riprendere dei dettagli particolari e ho voluto fare delle prove per esempio con un muro che aveva un pilastro sporgente di 10 cm per vedere effettivamente se il misuratore laser rilevava questa distanza quindi questa differenza tra la parete sporgente alla parete non sporgente effettivamente mi sono reso conto che i 10 cm di sporgenza sono stati rispettati perfettamente passando le 18 metri e 10 e di 18 metri e 20 quindi è molto reattivo molto rapido e ci permette di avere diverse misurazioni sia per quanto riguarda la velocità per quanto riguarda le angolazioni che per quanto riguarda anche l'utilizzo per il golf se uno sport che praticate io non ho mai praticato il golf quindi di questa funzione non so parlarvene quindi ragazzi che voi voliate con i droni che voi facciate golf oppure che vi occupate di semplicemente sport come potrebbe essere una disciplina del tiro dinamico sportivo tante altre discipline tante altre situazioni nella quale avete bisogno di una misurazione precisa ma arrotondata perché non avete bisogno dei millimetri dei centimetri allora questi dispositivi vanno più che bene sono pratici compatti vi consentono in un istante di inquadrare premere e sapere a che distanza vi trovate però dovete accontentarvi dell'arrotondamento ed è una cosa normalissima nessuno di questi dispositivi da anche millimetri anche perché utilizzandolo in piedi ci si sposta leggermente 23 cm avanti 23 cm indietro quindi la misurazione sarebbe falsata lo scopo di questi utensili di questi rilevatori laser e misuratori laser vi ripeto non è quella di avere il millimetro ve lo dico perché magari qualcuno di voi potrebbe acquistarlo per fare dei lavori in valegna maria non siete fuori strada in quel caso questo tipo dispositivo non va bene ma per tutte le altre situazioni sono dei dispositivi validi tra l'altro se volete misurare anche la velocità basta puntarlo sull'oggetto in movimento premere il tastino per la misurazione vi dirà la velocità esattamente come gli strumenti che utilizza la polizia detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace e cliccando sul pollice non lì cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto